La Fesis di Volley si aggiudica la gara 1, valevole per i quarti di finale dei play-off contro la formazione del Donorione Palermo. Sabato pomeriggio, in un palamell addobbato a festa, le ragazze guidate dal tecnico Diego Sutera non hanno deluso i propri tifosi, che per l'occasione hanno riempito gli sfalti dell'impianto in Bedoglino. La gara contro le palermitane era iniziata male per la squadra del presidente Calogero Schembri. Infatti, sono state le ospite ad aggiudicarsi il primo set con il parziale di 25-23. Forse la spinta del pubblico di casa, che ha instancabilmente ingitato le Fesisine, ha fatto cambiare le sorti dell'incontro. Infatti, dal secondo set in poi, non c'è stata più partita. Francesca Romero e compagni, coscienti dell'importanza del match, sconvolgono completamente le ambizioni di vittoria delle palermitane, aggiudicandosi i successivi tre set con i parziali di 25-15 nel secondo set e di 25-19 sia nel terzo che nel quarto set. Adesso le Fesisine sabato prossimo dovranno giocare la gara 2 a Capaci. Una vittoria consendirebbe alle pallavoliste in bedocline l'accesso alle semifinali dei play-off del campionato regionale di volley femminile di Serie C.